Ciao amici, benvenuti su Koala Chef. Oggi prepariamo insieme una ricetta super sfiziosa per quando avete poco tempo per cucinare e non sapete cosa preparare. Per questa ricetta vi basteranno soltanto 3 uova e 50 grammi delle vostre patatine preferite e ovviamente la farcitura potete deciderla voi. Non perdiamo tempo e iniziamo. In una ciotola rompete 3 uova. Aggiungete un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Sbattete le uova con una forchetta, in questo modo. Poi aggiungete 50 grammi delle vostre patatine preferite. Io ho utilizzato le lace al bacon perché sono affumicate e le adoro. Mescolate le patatine e lasciate riposare il composto fino a quando non si saranno ammorbidite, ci vorranno circa 5 minuti. Intanto scaldate un filo di olio di semi in una padella. Quando l'olio è ben caldo aggiungiamo il composto di uova e patatine e lasciamo che cuocia. Quando l'uovo inizia a solidificarsi anche sopra, possiamo farcirla. Io ho optato per speck e scamorza affumicata. A questo punto possiamo chiudere la nostra omelette a metà, in questo modo. ed ecco che è pronta. Un piatto veloce, semplice e adatto per quando si ha poco tempo per cucinare. Super morbida e succosa. Cari amici, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e condividetelo. Vi aspetto per nuove ricette.